non più fantasia ma realtà reale letteralmente radio yoga network www.letteralmente.info con voi e noi letteralmente radio yoga network per contatti radio yoga network chiocciolagmail.com e ti senti in forma ci sono i nostri registri oggi che si cantano tra peppino lo spazzacamino e cocco besame e muccio non lo so non lo so devono essere completamente partiti però invece non so che è partita anzi è ritornata lei susi io invece sono morizio dj che vi parlo qui dallo studio zero rete ferrara di letteralmente radio yoga network allora vediamo un po se riusciamo collegarci perché un'impresa ultimamente a collegarci con tutte queste linee telefoniche e vediamo un po se siamo fortunati perché qui ci vuole altro che bacchetta magica ecco intanto sono le ore 22 per coloro che ci ascoltano in diretta mercoledì 16 settembre 2020 ed eccoci insieme in diretta con la susi vediamo un po ecco ci sei susi buonasera a tutti eccoci sei arrivata eh susi arrivata anche da sacline studio ci siamo tutti allora facciamo un riepilogo perché molta gente si sta lamentando in questi digitali terrestri eh in mpg 4 avc tu capisci tutto eh quel che ti dico eh certo eh mi raccomando ecco poi domani anche tu sarai piena di donne uomini non si sa che antenisti a balloggi eh sì domani o dopo domani ho messo fuori il foglio ops allora non è sicuro domani mattina non è sicura sì era bello fare una live ma a volte è meglio lasciar perdere perché cambieranno come ti ho detto già dietro le quinte anche le quarti in questa forma di palcoscenico rovesciato in Italia molti multiplex gli lcn rimarranno gli stessi eh ma cambieranno tanti multiplex non solo di mediaset non solo di rai ma anche di sky ecco e questo io ripeto in tutta Italia ogni regione avrà un suo mux io ovviamente le so già tutti però non le diciamo anche perché ci possono essere delle modifiche perché qua se qualcuno non riesce a capire qualcosa ecco ma invece completo abbandono eh io vorrei sentire anche il tuo giudizio perché noi spendiamo soldi ad essere sinistri manco toccherà a te anche domani domani l'altro oppure quanto sarà l'occasione e però qui cambiano mux ma per limitanti pluriregionali regionali diciamo più regionali ecco o più piccoline provinciali che in realtà poi di provinciali non c'è più nulla perché è quasi una completa copertura garantita più del 60% nel territorio Emilia Romagna dove siamo noi eh ovviamente ovvio ecco ecco ma cosa ne pensi perché il nostro ministero non dà il piano delle frequenze eh ufficiali almeno per l'Emilia Romagna ma viene a piovere eh lo so non è la caramella sì no cambia il tempo ecco sì perché anche oggi è stato veramente caldo foso eh devo dire no no ma si rompe a fine settimana vai tranquillo ecco sì perché così è un po' troppo esagerato anche per le nostre menti che stanno veramente già che stanno un po' andando tipo a Modena vicino a casa tua c'è il gioco della russola ti ricordi? certo ecco ecco ma mi spieghi perché il ministero non dà risposte eh sul piano delle frequenze in Emilia Romagna dov'è il problema eh cioè noi siamo sicuri eh che voglio prendere su dei soldi ecco beh sì questo è sottointeso tra gare d'appalto subappalto eccetera no ma il problema è che un canale sembra ufficiale ripeto sembra ufficiale sia il MUX 42 non col tuo telecomando tu fai 4 e 2 no no io ti sto parlando del multiplex 42 che può ottenere attualmente tiene 9 canali comunque ne può ottenere 12 14 20 30 e poi in realtà a buon intenditor poche parole mi fa scappare da ridere eh ecco questa situazione però ripeto eh alcuni MUX tengono anche attualmente eh già 18 20 canali eh cioè anche MUX non solo regionali ma anche nazionali però cambia tutto la musica ci saranno solo alcuni che saranno favoriti e altri no i favoriti no eh o meglio i sfavoriti sono in corso di licenziamenti e anche altro non solo licenziamenti perché ripeto perché disoccupazione eh perché ripeto se non fanno un consorzio anche a livello pubblicitario non si mettono d'accordo insieme diventa complesso come una web tv mettere d'accordo 2 3 o 4 web tv per fare un canale del digital terrestre e dividere spese non ce la fai non vanno d'accordo figurati gli editori televisivi che sono 40 anni che li mastico figuriamoci li conosco dal primo all'ultimo eh diciamo forse al penultimo al terzo ultimo forse non so neanche io se ne conosco uno o due perché ultimamente non c'è tempo da seguire nulla però eh giustamente alcuni editori si lamentano perché non è giusto che uno che investe in una macro struttura un holding una televisione e non c'è un piano di frequenze che dovevano farlo otto mesi fa un anno fa sei mesi fa tre mesi fa ma qui i giorni mesi vanno avanti e ripeto da settembre c'è tutto un nuovo restyling eh di copertura capilar di illuminazione e tra l'altro cambiano anche i vari multiplex eh lo diremo poi nelle prossime puntate perché è un discorso lunghissimo eh ma lei è un po' preoccupata di questa situazione cosa combinerà il suo antennista domani eh il Dio te lo dica piacerebbe esserci ma non ci sarò mi aveva garantito che c'era lei sì si viene domani ecco ma se io avevo quel numero telefonico ma non siamo riusciti di lavoro ad aspettare lui ecco ma non siamo riusciti a recepire quel numero telefonico io gli avvisavo in preview eh perché io lo avvisavo in preview gli dicevo guarda che c'è da orientare in questo modo c'è da fare abcd e fgh e poi anche tutto l'alfabeto ecco mi raccomando eh perché due chiacchiere per 314 diviso 628 l'antenista vorrei proprio fare appartamento per appartamento per configurare i televisori e frequenze e via quindi sì sono fiduciosa di beccarlo esattamente pertanto non vorrei affrontare solo il problema di Sena Mazzoni con lui ma fare una micro info assemblea flash riunoncina così tra di noi per sentire proprio tanti altri antennisti che ho già iniziato da luglio però ragazza tu hai i tuoi annetti ma veramente è una fatica a mettersi d'accordo uno vuole apparire sai l'apparenza dell'apparire è brutto hai capito tu hai notato cosa ti ho postato io nel mio facebook eh quando l'hai postato ieri? no 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 18 minuti fa e 23 secondi 41 decimi no 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 è perché stavo facendo i massaggi perché anche di là non è che sono messi molto bene c'è un osso che insomma fa un po' e allora con i miei massaggi sono anche terapeutico emano il calore ecco perché mi senti molto rilassato in questo momento vuoi dire che ore sono? perché non l'ho ancora ricordato pensa un po' che ore sono? eh aspetta che te lo dico eh eccoci molto bene le 22 e 9 minuti esatto 11 secondi e 34 decimi e che giorno è? oggi 16 esatto settembre poi? settembre del 2020 e poi cos'è oggi? venerdì? lunedì? ah no Gennarco Levinci ecco hai ragione per coloro che ci ascoltano in diretta e ti assicuro sono in tanti tantissimi che tu non hai un'idea eh veramente ecco perché io dicendo ma io adesso vado a fare un messaggio e ho inserito anche le 2M gruppa pensa vai grande questo mi piace ecco ti piacciono eh pensa che canzone posso aver inserito sulla strada del mare invietato a svoltare si rimane qui è questa? mi sa proprio di sì wow se metti anche un mi piace eh alla canzoncina al mio post ecco non sarebbe male perché ripeto questo è un trucco che cominciamo a svelare se tu lo metti nei post mi piace il sistema si blocca cioè facebook è fatta così va avanti solo tramite conoscenze, amici e condivisioni purtroppo facebook è una macchina eh io mi auguro che da ottobre non cambia nulla eh ma se cambia molta gente cambia, fa un altro salto di qualità altrove io mi auguro che non sia così eh Susi eh ma me lo auguro anch'io onestamente eccoci ma da piccola tua mamma che canzone ti augurava, non so, per la buonanotte, per farti addormentare? non esistevano le canzoni della buonanotte quando io ero piccola i miei lavoravano in campagna mio papà invece lavorava in un caldeificio e noi andavamo a letto quindi avevamo la nonna la mamma paterna e ci metteva a letto in cinque ma ti metteva col prete, con la suora? per scaldarti in inverno? sì avevamo, sì avevamo ancora sì quelli lì ecco che era uno strumento antico abbiamo due minuti, quarantun secondi, ventitredecimi la chiusura io ti farei una domanda eh, visto che parlavamo di queste situazioni eccetera di una volta ma tua mamma, tuo papi, non lo so ti raccontava per dormire così non so, una fiaba qualcosa no, ci raccontavano no, i miei no perché ripeto non sai cosa stavo facendo in questo momento comunque va bene non dire che ti sto chiamando dalla tua letta no, no ecco, beh, non c'è problema io ho messo col viva voce e poi sono andata a vedere quello che mi hai pubblicato wow hai visto che ti ho detto la verità? la pura verità? sì ho visto, ho visto, ho visto ah, sai ecco e non ti raccontavano allora né fiabe né una canzoncina della buona notte? ma beh no, c'era spesso il nonno che ci raccontava ai tempi di guerra cosa facevano, cosa non facevano sì? sì, ci raccontava quello ti sento molto rilassata, eh come mai, eh? Susi? rilassata tanto, tanto è poco rilassata sono molto distrutta eh purtroppo ti capisco questi sono i problemi della vita materiale è inutile siamo qui per i saluti finali per augurare la buona notte ai nostri radioascoltatori eh, in tutto il mondo un abbraccio incantato, eh luccicante arriva dalla Susi saluta pure buonanotte a tutti grazie della compagnia eccola qua ecco hai visto che è pimpante sembra che abbia fatto i dams eh cioè io ho sentito una vibrazione tutti i chakra aperti cioè un diaframma sembra che abbia fatto teatro, eh la Susi eh vero? no no? è teatro ma c'è ancora tempo? sono ancora in tempo siamo in rosso no, non c'è tempo siamo in rosso ciao, gioia bene, vi salutiamo alla prossima i migliori saluti anche da Maurizio DJ e da Susi che ha collaborato e vi ha dato anche la buonanotte cosa volete di più della vita? buona giornata buon pomeriggio buonasera dipende quando ci ascolterete i migliori saluti e ciao ciao saluta, saluta ciao, ciao voglia di tu il credio? ascolta anche tu letteralmente